ciao e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica armonica italiana ho il piacere di comunicarvi che anche questa lezione è stata integrata con il materiale audio e le partiture in formato tabellare per i non vedenti per scaricarlo puoi utilizzare il link che trovi sulla pagina era il 1972 una canzone incisa su un 45 giri prodotto dalla famosissima casa discografica rca debutta al decimo posto della classifica dei singoli più venduti dopo tre settimane di permanenza nella top 10 questo brano si ritrova il primo posto ma non solo nei tre mesi successivi continua a rimanere in classifica alternandosi tra il secondo e il terzo posto aggiungiamo che questo capolavoro è anche considerato il brano discografico italiano più venduto di tutti i tempi e davvero capirete che stiamo parlando di qualcosa di eccezionale lui si chiama claudio baglioni e il titolo della canzone è questo piccolo grande amore per questo brano ho scelto un'armonica in là e suonerò attenzione in dodicesima posizione sì hai capito bene suonare un'armonica in là su una base musicale in re significa suonare in dodicesima posizione ma non farti spaventare in fondo per suonare le melodie che compongono il ritornello dovremo utilizzare il bending soltanto per emettere due note quello di un semitono e quello di due semitoni entrambi sul foro 3 aspirato per il resto il brano è abbastanza semplice e si utilizzano i fori dal 3 al 7 lavorando quindi sulla parte centrale dello strumento come sempre ho preparato una tab con le note e i fori da suonare soffiati ed aspirati evidenziando in giallo le note che dobbiamo emettere con il bending ti ricordo che i nomi delle note sono sempre riferiti a quelle prodotte da un'armonica in do vediamo ora l'analisi del brano il ritornello comincia con una piccola frase che parte sul foro 5 soffiato la seconda frase comincia sul foro 6 aspirato e termina sullo stesso soffiato la terza frase verte soprattutto sul foro 5 e poi si conclude il primo periodo con questa melodia che comincia sul foro 4 aspirato ripetiamo la seconda frase ritmica finisce sul foro 6 e la successiva è molto simile alla frase 3 con l'aggiunta di una nota poi abbiamo una frase che viene ripetuta due volte parte sul foro 4 aspirato e concludiamo con l'ultima frase di ritornello dove finalmente incontriamo le due note da emettere con il bending probabilmente mantenere il foro 3 aspirato con il bending di due semitoni risulterà di difficile e la nota difficilmente suonerà perfetta non ti preoccupare questo è perfettamente normale il mio consiglio è di mantenere un flusso dell'aria leggero ed aiutare l'ispirazione utilizzando il diaframma ok adesso che abbiamo imparato a suonare le frasi che compongono il ritornello di questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni facciamo partire la base musicale e lasciamo suonare la nostra armonica italiana grazie a tutti 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 grazie a tutti